Una galleria lunga due chilometri con due corsie da 3,75 metri per una carreggiata larga 9 metri. Inaugurato questa mattina un nuovo tratto stradale sulla statale Appia nel comune di Sessaurica, in provincia di Caserta. Quest'opera è un'opera che vale 20 milioni di euro di investimenti, ma soprattutto è un'opera importante perché incide direttamente sulla qualità della vita degli abitanti della città di Cascano e di tutta questa area e di chi utilizza questo collegamento, in particolare in estate, per andare verso il mare. Una doppia valenza quindi, sia trasportistica che ambientale. Svincole e gallerie infatti ridurranno sensibilmente inquinamento acustico ed atmosferico, ma gli investimenti per la campagna non finiscono qui, come ha dichiarato il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci. Abbiamo in questo momento lavori in corso per 1 miliardo e 800 milioni di euro, altri 3 miliardi di lavori in programmazione da fare nei prossimi anni, in piena sintonia con la regione, con le amministrazioni locali. Presente al taglio del nastro il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, Giuseppe Maria Reina, e l'assessore regionale Trasporti, Ennio Cascetta. Tanti progetti, alcuni che si concludono come quello di oggi, altri che partono con finanziamenti e con progetti già avviati e che dovranno realizzarsi nei prossimi anni. Fra poco si completeranno i lavori e quindi si aprirà il traffico, lo svincolo di Santa Maria Capovetere sulla 1 Napoli-Roma. Sono in fase di redazione, sono già stati finanziati, inseriti nella legge obiettivo, due altri grandi assi stradali qui in provincia di Caserta.